Un'altra visione del profeta Ezechiele, la visione della valle degli scheletri. Il profeta Ezechiele vide una valle, una bellissima verde valle piena di scheletri, piena di ossa. Ossa secche, dry bones. Ascoltate la parola del Signore, perché il Signore disse ad Ezechiele di prendere quelle ossa e unirle tra loro. Il capo con il tronco, il tronco con gli arti e gli scheletri prese la vita e danzavano, danzavano. Ascoltate la parola del Signore, perché il Signore discontinuò quelle ossa. Un'altra visione della parola del Signore, perché il Signore di prendere quelle ossa e unirle tra loro. Il signore di prendere quelle ossa e unirle tra loro. Un'altra visione della parola del Signore, perché il Signore di prendere quelle ossa e unirle tra loro. Un'altra visione della parola del Signore di prendere quelle ossa e unirle tra loro. Un'altra visione della parola del Signore, perché il Signore di prendere quelle ossa e unirle tra loro. Un'altra visione della parola del Signore, perché il Signore di prendere quelle ossa e unirle tra loro. Un'altra visione della parola del Signore, perché il Signore di prendere quelle ossa e unirle tra loro. Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.